Questa volta è toccato agli ambulanti abusivi che invadono soprattutto nelle ore serali l'area del lungomare Federico II di Svevia di Gela. Dopo il mercatino di via Settefarine continuano infatti, come preannunciato, i servizi interforze di polizia insieme a carabinieri, guardie di finanza e polizia municipale che già a mercoledì scorso hanno portato ad eseguire misure di prevenzione e contrasto all'abusivismo e alla contraffazione che aumentano nel periodo estivo. I poliziotti hanno sottoposto a sequestro circa 10.000 articoli di bigiotteria, circa 200 giocattoli per bambini, 1.600 cover di telefonini, vari articoli tra cosmetici, accessori, cinture, borsette e borsellini da donna. Tutta la merce sequestrata presentava imperfezioni di produzione, scarsa manifattura non conforme ai marchi originali e, come nel caso precedente, da indurre in inganno gli acquirenti. Sono state elevate 11 contravvenzioni ai sensi della legge regionale 28 del 1999 per assenza di autorizzazioni al parcheggio, due contravvenzioni per mancanza di autorizzazione di licenza amministrativa e sei contravvenzioni per omessa installazione di misuratori fiscali. Ancora controlli previsti per le prossime settimane per tentare di arginare un fenomeno che turba l'economia legale, con conseguenze negative sul piano della sicurezza e a volte anche sull'ordine pubblico.